Sì, perché vedere tanta felicità, tanta gioia intorno mi dà... Sono emozionato. Che cosa significa per lei questa vittoria? Significa tanto, significa tutto, significa tanto lavoro e so che non è facile quello che ci aspetta domani ma con loro, insieme a tutti questi amici, insieme alla città di Pagani, insieme a tutti quelli che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato, i rappresentanti in consiglio di tutte le forze politiche, io dovrò lavorare tanto perché la mia città merita dignità e merita ricerca. Mi rispetto da parte di tutti. A chi dedica questa vittoria? Mi fa emozionare, lo dicevo prima, la dedico a una persona che non c'è più, al mio suo c'era. Ecco, grande sindaco, grande, complimenti. Grazie, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti, veramente, grazie. Siete straordinari, siete eccezionali, grazie, grazie. Forzone, 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 forzone. La città ha deciso, ha deciso la città. Grazie, grazie. 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 Grazie.